Tutto bene? Sì, ce l'hai proprio fatta Perché avevi bisogno di aiuto Cosa ti ho detto? Te l'ho detto che sto qua Adesso si è tutto alterato E' il suo legion? Quello orcere? Eh sì, è lui E tu dicevi di non aver bisogno di aiuto? A me pare proprio di sì invece Oddio Ma inseguilo Il portale era ancora lì Ma che cazzo ti fermi? Ma scusami E' andato a rapirlo Vado, vado subito Che tra l'altro ora che ci penso Perché stavo guardando i colori del mio legion Ci sono i colori dello 0-1 Perché quelli sono i colori dell'Eva 0-1 Ci saranno i colori anche degli altri Eva Forse lo 0-2 Ma gli altri tipo lo 0-0 Non credo sto punto Ok Ecco fatto Prendiamo sempre Tutta la materia Cremzi Che troviamo in giro Perché ne abbiamo bisogno Allora Tu che cosa fai lì? Non lo so però Ecco fatto Medicina piccola E una medicina piccola Passiamo dall'altro lato Forse devo attivarli tutti e tre Dobbiamo fare in fretta Due E tre Perfetto Ed è apparso un nemico Ecco fatto Colpo di grazia Così ci curiamo Colpi di grazia max Ecco qua Distrutto Catroia mi devasto Non avete idea di che cazzo vi combino oggi Oggi in sto gioco mi sento Totalmente superiore a quando l'ho iniziato Ok qua ci serve Il legion Ecco qua Boss fight Ne Non boss fight ma Aumentiamo il nostro attacco Forccato Spacco la paggia ora Non so più come all'inizio Che ogni cazzo di cosa Non riuscivo neanche a schivarla E ancora adesso in realtà Molte cose non riesco a schivarle Perché Magari è la prima volta Che vedo un tipo di nemico Come quello la rosso Però Porca troia vi spacco oggi Questi come li attivo Ah beh Le medicine grandi sono ben accettate Le medicine grandi sono ben accettate Altra cesta con dentro Medicina piccola No caricatori Ok Prendiamoci ancora la materia Che siamo a un buon 70 e passa per cento Quindi A sto giro non ti dico che la trovo tutta Però Sai Si sa mai Fa vedere No di là non ci arrivo Ok quindi Tu qua E io qua Ah c'è una cesta Là sotto Aspetta Ecco fatto Vediamo Una medicina grande Va bene Come ho detto prima Le medicine grandi Sicuro Non ci fanno schifo Anzi Siamo al 72% Altra cesta Altra materia Cremisi Ecco fatto Un'altra medicina Eh la madonna Ma quante medicine grandi abbiamo trovato Sette per ora Vai Conducimi Presi Oh merda Quanti sono Quanti sono Sono tre Presi Vaffanculo Ah aspetta Lì c'era Oh merda C'era una cesta Voglio prendere quella cesta io Riportami su per favore Allora Mandiamo il legion avanti Ecco fatto Sicuramente medicina grande No materiali Vabbè Non li buttiamo via neanche quelli Dai Ci serviranno sicuramente più avanti Per aumentare di livello Quindi Lì ci sono un sacco di cristalli Che ci permettono di fare il giro all'angolo Questo vuol dire Che lì non ci arrivo Questo vuol dire Eccolo là Nostro fratello Ed eccolo lì Lì John No ti prego Non dirmi che è una Che è una battaglia A rincorrerti È una cazzo di battaglia A rincorrerlo Vero Aspetta Ecco fatto È scappato Allora Fermi tutti Ecco fatto Sì È andato dall'altra parte No è su un caduto Che nervosi salti A volte Calmo Sì lo so che non sarebbe Il momento ideale Per mettersi a prendere La materia cremisi Cattrone ti spacco la faccia Ora Ecco fatto Prendiamo tutta la materia cremisi Che riusciamo No ho sbagliato Aspetta Ecco fatto Ecco qua Non so che cosa mi sia servita Ma probabilmente È uno shortcut Ah ma mi li ha messi lui Sti cazzo di blocchi Allora vaffanculo Eccolo lì Dove era lo shortcut Ma mi sta Mi stai bloccando La mia Pesto di merda Adesso che Adesso che ti raggiungo Ti spacco la faccia Non so che cosa Io abbia fatto Ah la ho incatenato Eh ma non posso passare Ora Ma Vaffanculo Questo combattimento Mi sta dando Di nervo Proprio pesante Dov'è Ecco è scappato C'è un'altra cosa C'è un'altra cosa Ti spacco la faccia Ora Dov'è andato Dov'è andato Eccolo là Se mi blocchi ancora la strada Dai Non è possibile Sti blocchi Di merda Mamma mia Che nervo Hai fatto l'errore Più grande Che potevi fare Venire in questa parte Diventato di nuovo Invisibile Si è trasformato Dov'è Dov'è andato Donna mia Dai Non ci passo Porca puttana Quanto lo odio Sto muro Ti odio Santo dio Ecco fatto No è di nuovo Scappato Dopo tutta la fatica Che l'ho fatto Per arrivare lì Allora Fermo Ecco fatto No di nuovo No però È rotto il cazzo Ecco fatto Ora vieni a me Merdolo Mamma mia Con quel cazzo di buri Che continuavano ad avanzare Che nervosismo Assunto Che mi stavi dando Ligion Arciere C plus Meno Nuova Ligion Acquistato Ligion Ampliare Focalità Combattimento E non Perfetto D Secondo me Ho preso una D Una C Eh dai Pensavo molto Peggio Ma tu cosa fai Se schiaccio L Ovviamente Che è là Ok Bene Adesso ho due Legion da dover Occuparmi Che cosa posso usare Per arrivare Dall'altra parte Quello Mettiamo il legion arco Prendiamo la mira E via Perfetto Eccomi qua Fratello Ho il tuo legion Se vuoi te lo ridò indietro Eh meno male dai Arriviamo subito Torniamo alla base Tutto a posto Meno male dai Il fantasma Era lui Il gattone E' incredibile Che l'abbiamo ritrovato Micio Donde sta Zell Micio Ma Un sacco di gattini Ci sono Oddio Li voglio tutti Ah ma erano Perché erano Suoi No Oh Scusa se ti ho detto Che sei un pezzo di merda Per i gattini Oh 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 ma dai che pezzi di merda Che siete E poi i gattini Sono belli Eh lo so che ti manca Lo so che mi tratti di merda Perché ti manca Però Datti una calmata Chi l'avrebbe immaginato Chi l'avrebbe immaginato Ciao E E E soprattutto non da abbassarci lo stipendio. Torniamo alla base, dai. Non lo dirò neanche a Marie, tranquillo. E soprattutto non a Marie. Oh, benvenuti! Sono tornata! Akira, io... Oh, sono... Scusate. Oh, Marie. Ho avuto tutti sbagliato. Sei una... una grande amica! Una grande amica? Come già scoperto? Come già scoperto? Come l'ha scoperto? Come già scoperto? Come intervista? Io non gli ho detto niente E... Perfetto Penso che vorrei parlare con Marie Non mi dispiace i dettagli Vi ho visto tutto da qui Non ho esperto che mai vedessi le legioni perdute Molto meno come questo Un attacco subito E poi... Eh, lo so, grazie Perché io sono la prescelta Perfetto Questo è tutto Potete tornare ai vostri trattori Grazie Will and Defoe Legame, casi rossi Ne abbiamo saltati tre Di cui questo so dov'è Gli altri due Ammetto di non sapere dove fossero I casi blu invece li abbiamo presi tutti Tranne uno Nannaggia Oggetti 27 su 36 Valutazione C Vabbè Queste 3s plus ci hanno rialzato un po' il voto Ricompenza e servizio Ricompenza e servizio agente plus I tuoi PS e ricompense sono aumentate Il tuo Harry sarà in grado di mostrare le altezze dei personaggi Wow Copia del cappellino di lapi Con la lettera P Ma perché? E abbiamo ottenuto 21.000 G Grazie Grazie